Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi tratterò essenzialmente due temi. Il primo riguarda il nuovo BTP Valore, la nuova tipologia di titolo di Stato italiano che così si aggiunge alla gamma ormai vastissima e confusionaria di titoli di Stato che il tesoro italiano offre, un po' come con i modelli delle automobili, con varianti optional eccetera e che però appunto verrà emesso a partire dal 5 giugno prossimo e quindi comunque sta sollevando abbastanza interesse. Ancora si hanno delle informazioni sulle caratteristiche che avrà, poi le vedremo, ma comunque limitate, in particolare ancora già vi dico non si sa quali saranno i tassi di interesse che offrirà, saranno crescenti nel tempo, la durata sarà 4 anni, poi vedremo più tutti i dettagli, ma solo il primo giugno verranno comunicati i tassi ufficiali. Però vedevo su internet tra i vari articoli che ne trattavano alcuni dicevano già ecco perché è conveniente, potrebbe essere conveniente, cioè alcuni lo consigliano senza nemmeno avere caratteristiche. Comunque ecco, e così come dicevo si aggiunge a questa variegata ormai vasta categoria di titoli di Stato che il tessore italiano cerca di emettere soprattutto per raccogliere i risparmi sostanzialmente i cosiddetti investitori retail, i piccoli risparmiatori, un trend che da anni dura, ha iniziato con il BTP tali tempi dei governi del 2013, Mario Monti eccetera e poi è sempre continuato, poi anche con il BTP futura, il triste BTP futura nel senso che quel titolo di Stato, se ricorderete, con scadenze lunghissime, tassi di interesse a tasso fisso bassissimi, alla fine proprio del periodo di tassi a zero, poco prima che poi salissero, quindi questa raccolta di miliardi di Euro di risparmi privati che poi adesso sul mercato valgono, sono molto molto sotto la pari, parliamo di perdite potenziali se si vendesse anche del 20% o oltre avevamo visto alcuni quasi il 40% insomma dipende quanto è lunga la scadenza e come vanno i tassi di interesse, ma per dire c'era ecco dopo è ritornato in auge il BTP Italia con il discorso che l'inflazione aumentava e poi c'era anche così nella moda green c'era appunto anche il BTP green che però avevamo visto sostanzialmente è un BTP normale, cambia soltanto per essenzialmente, poi l'avevamo analizzato, ma insomma per la destinazione dei soldi che dovrebbero avere così questi prestiti che raccolgono e a questa gamma complicata si aggiunge appunto questo BTP valore che poi vedremo nel dettaglio. Vi dico soltanto ecco il secondo tema del video riguarda le criptovalute, in particolare una notizia su ormai la saga, la triste saga di FTX che riguarda l'identità e i dati personali degli utenti che di fatto avevano dei conti con FTX e che adesso sono vittime sostanzialmente della crisi della società che insomma è in una sorta di amministrazione controllata, il chapter 11 lo avevamo visto e è interessante perché in questo contesto addirittura 5 grosse società di media, quindi diciamo giornalistiche in un certo senso stanno premendo perché vengano pubblicate le informazioni, l'identità di chi aveva questi conti con FTX, probabilmente per vedere se ci sono persone famose, quanto avevano eccetera. Per ora il giudice americano sta tenendo duro a non pubblicarle, questo proprio evidenziando che la pubblicazione di queste informazioni sensibili potrebbe esporre queste persone che già sono cadute vittima senza colpa di questa crisi societaria delle cripto, diciamo in un certo senso non bancaria ma insomma dell'exchange, delle cripto che in ambito criptovalute è qualcosa di vagamente assimilabile a una banca, rischierebbero anche a quel punto di cadere vittima proprio di truffatori con sistemi di truffa molto avanzati che poi vedremo, che utilizzano questi dati personali sensibili per fare una truffa in particolare che si chiama quella della macellazione del maiale, è un termine cinese ma tradotto significa questo e vi spiegherò anche in cosa consiste e come evitarla, tra l'altro non con le parole mie ma con un interessante approfondimento dello stesso procuratore distrittuale della California su un caso di cui si sono occupati nel loro sito hanno anche spiegato bene questo tipo di truffa come avviene e appunto anche quindi il paradosso è che oltre al danno c'è anche la beffa come nel caso dicevo della società sempre di criptovalute, teoricamente dovrebbe essere criptovalute, poi non si sa mai bene quella che è nft se ricordate quella italiana con tutta anche lì quella saga giudiziaria si diceva il paradosso che chi magari aveva dato soldi a questa società non solo rischiava purtroppo di perderli ma addirittura poteva magari cadere anche così per assurdo nella diciamo nella rete, nell'occhio magari del fisco delle autorità dicendo ma perché non hai dichiarato quelle cripto, perché non l'hai pubblicato, perché non hai pagato le tasse e su cose che a questo punto non era nemmeno chiaro se poi effettivamente con quei soldi nel caso nft effettivamente l'utente aveva realmente le criptovalute, realmente aveva quei guadagni, quegli interessi eppure c'era questo paradosso per cui pochi denunciavano perché forse avevano questo tipo di timore pur non avendo in teoria magari fatto nulla di male però comunque c'è ancora mentalmente questa associazione un po' che appunto le criptovalute servano per nascondere qualcosa, si fa molto a pubblicità anche di case appunto il cosiddetto dark web dove effettivamente magari vengono a volte utilizzate per acquisti illeciti di sostanze stupefacenti, armi, sostanze vietate, insomma ogni genere di cosa negativa ma ovviamente è come quando fanno la lotta al contante che dicono ecco che a volte magari si vede anche in televisione fanno il servizio con lo spacciatore, mettono sul tavolo con la scritta dell'autorità che l'ha arrestati e mettono così sul tavolo i contanti e magari le bustine che hanno sequestrato quasi a suggerire che il contante sia una sorta di come posso dire arma del delitto anche se ecco ovviamente chiaro magari lo utilizzano magari diciamo i proventi di attività illecite ma non significa che il contante in sé sia usato dai delinquenti invece tante volte ovviamente anche con l'interesse di spingere la moneta digitale dove ovviamente tutta una serie di istituzioni ci guadagnano ogni transazione oltre al controllo dei dati che poi possono essere rivenduti eccetera c'è quindi un interesse e questo caso di NFT che poi vedremo appunto è di sì NFT ma adesso è il caso di FTX appunto di queste società di media che vogliono i dati e premono, insistono anche sul giudice dicendo vogliamo che vengano pubblicate l'elenco dei titolari dei conti che ripeto fino a prova contale sono le vittime in teoria la dice lunga anche su come tutte queste informazioni che sempre più vengono richieste, che la legge impone il cosiddetto KIC, Know Your Customer, KYC è la sigla cioè tutta quella procedura per cui sempre più nel mondo diciamo finanziario, bancario e adesso anche le criptovalute per ogni operazione loro vogliono che uno mandi il documento, sia identificabile mandi documentazione fiscale, codice fiscale, chi sei, dove sei, dove risiedi come le compri, voglio una traccia di come fai e un po' è ovviamente per motivi fiscali perché il fisco ovviamente vuole chiaramente magari mettere le mani su quel tipo di attività profittevoli e tassarle insomma anche se ancora alcuni paesi hanno una normativa poco chiara però comunque ovviamente c'è l'interesse di voler conoscere per il motivo proprio di esattoria dall'altro c'è una questione però anche magari di prevenzione giustamente di attività illecite però questo binomio di dire criptovaluta anonima uguale qualcosa da nascondere quindi attività illecita tante volte non è vero e chi magari sostiene la privacy anche per motivi filosofici anche per motivi di libertà personale ricordo sempre il caso dei camionisti in Canada che riuscivano a sopravvivere quando gli avevano bloccato i conti grazie a quella legge fatta dal governo addirittura non so se era proprio una legge o era proprio così un decreto governativo insomma dalla vice premier canadese anche il belloccio tutto con la faccia angelica poi insomma si è visto come è successo queste persone manifestavano ricordo sempre per evitare per tutta una serie contro tutta una serie di misure sanitarie molto forti imposte e siccome è lecito manifestare ancora in Canada però ovviamente stavano creando molto imbarazzo molta attenzione al governo molta anche delegittimazione popolare prima la polizia ha provato a mandarli via ci sono i video come dicevo che rompevano i vetri delle macchine per farli prendere freddo e fare andare via poi prendevano le targhe li identificavano e avevano fatto una normativa dove sostanzialmente senza ordine del giudice potevano bloccare i conti a queste persone in modo sostanzialmente da affamarle e farle andare a casa e in quella situazione le criptovalute furono fondamentali per aiutare queste persone per creare un canale parallelo non censurabile dal governo per aiutare queste persone e in quel caso non è che queste violavano una legge o comunque facevano nulla di male era un mezzo un po' come hanno usato qui per cui magari una persona che fa qualcosa che non è vietato dalla legge ma il governo non vuole sostanzialmente il meccanismo del bastone per cui dicono io ti rendo molto difficile qualcosa faccio in modo che poi sia tu costretto a fare quella scelta ma apparentemente sia una scelta e in quel caso appunto fu chiarissimo come il controllo della situazione finanziaria di una persona era il mezzo appunto per bloccare sostanzialmente la vita di una persona anche se questa non aveva fatto nulla cioè qui c'è sempre stato giustamente non so magari il giudice che ordinava il sequestro anche preventivo anche in via cautelare di un conto corrente o delle proprietà di una persona magari se c'era il sospetto fondato che siano proventi di attività illecite o se magari a volte pensiamo ai casi dei debiti quando magari uno chiede un sequestro se magari ha il fondato motivo di ritenere che poi uno può far sparire i propri beni e rendersi insolvente quindi già esistono queste situazioni lì era qualcosa che andava oltre che si lega a tutta la questione appunto di controllo totale quasi rieducativo in stile un po' crediti sociali, Cina eccetera e anche tutti i pericoli delle monete digitali delle banche centrali insomma quello lo avevamo visto però ecco in questo contesto è fondamentale il caso che poi vedremo perché appunto ci ricorda come i dati che noi forniamo uno dice non ho niente da nascondere vi mando i miei documenti vi mando tutto vi faccio vedere che i miei soldi arrivano ad un'attività lecita ci compro le criptovalute ci pago le tasse non c'è niente di male benissimo però poi quella società che obblighi ha di controllare che i miei dati non vengano diffusi e nel caso FTX ricordo i commenti di quello che poi è stato diciamo l'amministratore nominato dopo la crisi che si era occupato anche del caso Erron che aveva così commentato in modo molto discreto ma insomma che sembravano essersi già rivelati fortissime carenze nell'ambito della sicurezza anche informatica interna eccetera quindi non si sa se quei dati sono usciti o no ma poi ci sono storie famose anche di grossissime società tecnologiche dei colossi che comunque riuscivano ad hackerare pubblicavano magari numeri di carte di credito di non so quanti utenti nomi, indirizzi quindi c'è anche questo aspetto queste società come rispondono se perdono i nostri dati se questi dati vengono diffusi e se soprattutto come poi vedremo si rischia di cadere vittime di truffe in quel caso quindi questo è un altro aspetto molto importante che riguarda tutti anche chi magari non utilizza criptovalute anche chi magari non riguarda diciamo FTX ma è una questione sui nostri dati che sempre più sono online anche finanziari sempre più sono le mani di queste istituzioni c'è una sempre maggiore informatizzazione e sempre meno controllo di questi dati e soprattutto con anche tutta una serie di sviluppo tecnologico addirittura di intelligenza artificiale di mezzi sempre più raffinati anche per chi fa poi veramente delle truffe diventa sempre più facile camuffarsi e riuscire a fare chissà cosa con i nostri dati poi lo vedremo nel caso della truffa della macellazione del maiale come è stata così ridenominata prendendo spunto dal nome cinese allora veniamo adesso alle caratteristiche del BTP valore come dicevo è una nuova tipologia di buono del tesoro collennale italiano che è stata creata dal tesoro come dicevo si aggiunge a tutta la variegata così insalata mista di BTP BTP Futura, BTP Italia, BTP Green poi ci sono i BTP Euroi legati all'indice dell'inflazione europea i CCT c'erano a tasso variabile adesso anche questi Euroi poi ci sono i classici buoni ordinari del tesoro poi mi sembra ci sono anche dei BTP a breve scale poi vi metto il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze ma ogni tanto qualcuno rischia di perderlo anch'io per quanto riguarda il BTP valore come dicevo verrà emesso pensato per gli investitori retail cioè quindi i piccoli risparmiatori dal 5 al 9 giugno il primo giugno si sapranno i tassi di interesse a quanto ammontano e quello che si sa è che la durata sarà di 4 anni quindi una durata abbastanza breve ci sarà sempre un premio cosiddetto fedeltà per chi sottoscrive i titoli in fase di emissione e li tiene fino a scadenza e quindi sostanzialmente chi dà soldi freschi dà veramente i soldi presta effettivamente i soldi al governo italiano e ci sarà questo premio fedeltà che non si sa ancora quanto ammonterà ma insomma verrà comunicato anche questo si sa che i tassi di diciamo le cedole saranno crescenti nel tempo fisse e appunto che la durata è abbastanza breve per questo avevo detto che secondo me è uno strumento un po' ibrido tra una sorta di BTP normale a breve scadenza a tasso fisso e il buon ordinario fruttifero postale ne avevo fatto un video sui buoni postali fruttiferi il buono anche lì poi hanno cominciato a fare una gamma così fantasiosa di buoni postali di ogni genere 3x2, 2x3, 3x4 insomma tutti così oppure magari legati all'inflazione legati magari a pensioni eccetera eccetera anche lì ci ho fatto un video potrei anche farne uno aggiornato fatemi sapere se volete posso fare un video aggiornato sui tipi di buoni postali che offrono oggi quello fu uno dei primi video fatti ormai quasi due anni fa forse con il canale quindi magari può anche essere un'idea fatemi sapere e comunque ecco dicevo che ha delle analogie secondo me con il buono postale appunto perché anche i buoni ordinari fruttiferi hanno questa caratteristica di offrire dei rendimenti crescenti nel tempo questo per incentivare il risparmiatore ovviamente a tenerlo per quale inizio ti danno meno dopo però se lo tieni più tempo ti danno di più quindi quella forse è l'ottica va detto ecco che nel caso però di un buono postale ha un senso anche perché ricordi buoni ordinari tutti i buoni postali hanno la caratteristica rispetto alle obbligazioni che possono essere in qualunque momento diciamo rivenduti in un certo senso liquidati incassati per essere più precisi alle poste si va alle poste si lascia indipendentemente da quanto è stato emesso loro restituiscono il capitale più gli eventuali interessi maturati a seconda della tipologia quindi non è come le obbligazioni che invece vengono rimborsate solo a scadenza e possono essere comprate e vendute sul mercato ma a quel punto c'è un prezzo del mercato dato da domanda offerta quindi teoricamente si può anche rivendere sotto la pari ovviamente un'obbligazione prima della scadenza buono postale no questo diciamo è un vantaggio ma è una caratteristica diversa quindi comunque se secondo me può avere un senso offrire un rendimento crescente sul buon ordinario postale perché ovviamente siccome può essere liquidato in qualunque momento magari offrono i nuovi buoni postali un rendimento maggiore uno può essere incentivato a dire incasso quello se mai ne faccio un altro oppure magari lo rivendo e faccio altre cose che rendono di più invece con questo meccanismo così crescente ovviamente il risparmiatore può farlo ma è incentivato a tenerlo perché magari dicono i primi due anni ti diamo il 2% all'anno poi il 2,5% per altri due anni poi il 3% quindi magari ogni cavolo aspettato due anni al prossimo anno aumenta e magari lo tengo nel caso di un'obbligazione tanto più con scadenza 4 anni il buono ordinario postale è una scadenza di 20 anni adesso se non l'hanno cambiata era 20 anni quindi molto lunga in teoria quindi ovviamente poteva anche giustificarsi questo sistema crescente il fatto che sia offerto su BTP a breve scadenza questa è la mia personale interpretazione chiedo a voi un parere mi dà l'idea che lo scopo sia fare in modo siccome anche il premio fedeltà dovrebbe servire a questo che da un lato venga sottoscritto in fase di emissione e non dopo e quindi questo per il premio fedeltà fa in modo che il governo effettivamente riceve soldi freschi questo è anche il motivo per cui il BTP valore è stato detto come il BTP Italia non è stato fissato un tetto massimo di emissione per cui in teoria salvo chiusura anticipata il tesoro si impegnerebbe così a offrire BTP valore a chiunque li richieda quindi sostanzialmente vogliono raccogliere più soldi possibili non è che magari dicono è un'emissione x miliardi di euro e chi offre di più se li aggiudica insomma questo come di solito funziona con i titoli di Stato in questo caso è proprio l'idea di raccogliere risparmio nelle famiglie ma questo come un po' tutte queste nuove emissioni proprio pensate per gli italiani l'avevo già commentato sul video sull'ultimo BTP Italia e anche la stampa stessa lo dice qui per esempio Repubblica poi vi metto l'articolo in descrizione dice a giugno la prima emissione il tesoro due punti cresce la domanda dei piccoli risparmiatori punto l'obiettivo è sottrarsi alla speculazione e fronteggiare la riduzione degli acquisti della BCE cioè la banca centrale europea per cui come sappiamo la banca centrale europea col fatto che c'è inflazione devono alzare i tassi di interesse dovrebbe ridurre o starebbe riducendo l'enorme quantità di titoli di Stato dei paesi euro che ha acquistato parliamo di miliardi ci ho fatto un video anche lì BPEP programma standard programma pandemico questo enorme aiuto che dava agli stati che consentiva appunto a paesi come l'Italia di indebitarsi a tassi negativi sulle brevi scadenze quindi ovviamente una situazione insomma che fin dall'inizio io commentavo personalmente come assurda anche quando lì era la normalità ovviamente non solo l'Italia anche altri paesi in condizioni analoghe ma ecco per dire che dieci anni fa ci dicevano che eravamo pareva al collasso da un minuto all'altro spread BTP Bund ce lo chiede l'Europa fate presto ricordate il titolone di giornale lo spread che saliva poi improvvisamente ecco il debito a tasso sotto zero praticamente quindi c'era questa situazione adesso che la Banca Centrale Europea acquista meno e quindi dovrebbero ridurre c'è meno questo aiuto probabilmente lo scopo è cercare di vendere questo debito pubblico trasferire questo debito pubblico dagli istituzionali che sono appunto Banca Centrale Europea magari anche le banche private italiane estere investitori esteri e trasferirlo sempre più nelle mani dei piccoli risparmiatori come avevo detto quello era un mio commento personale sul BTP Italia secondo me è un'arma a doppio taglio loro la raccontano dicendo è un bene perché effettivamente è vero in teoria il piccolo risparmiatore ha meno cioè è meno attivo tendenzialmente sui mercati per cui sono intanto tanti piccoli quindi è più difficile orchestrare un attacco speculativo a meno che si diffonde il panico o c'è l'euforia di volerli comprare l'opposto per tutti ma tendenzialmente se invece grosse quantità di titoli vanno in poche mani magari estere possono fare attacchi speculativi far crollare o aumentare i prezzi di titoli invece in teoria se c'è una proprietà più diffusa tra i piccoli risparmiatori tanto più persone che tendenzialmente prestano i soldi allo Stato tengono lì c'è il premio fedeltà prendono le loro cedole aspettano la scadenza in teoria quei titoli rimangono lì fermi il debito pubblico non viene molto così sballottato e alterato nei spread eccetera questo come viene raccontato potrebbe essere vero se io però sinceramente ho qualche perplessità su questa semplificazione perché comunque a parte che continua lo Stato a fare le emissioni di buoni del tesoro poliennali che magari finiscono le mani di banca di investitori istituzionali quindi comunque se loro volessero fare un attacco speculativo ancora potrebbero farlo e alterando poi ovviamente c'è una correlazione per cui immaginate il BTP tradizionale sono saliti i tassi di interesse sono calati i prezzi di quelli già messi anche il BTP futura che era per i piccoli risparmiatori è crollato di prezzo quindi non è che dopo magari loro sì l'hanno venduto ma è un riflesso tante volte quindi non è che poi chi compra questi titoli nessuno li vende nessuno li tocca tante volte per una questione anche di potenziale arbitraggio se scende il rendimento o aumenta il rendimento del BTP normale ovviamente si ripercuote anche su tutti i BTP per così questi piccoli investitori retail quindi sinceramente non so quanto puoi proteggere attacchi speculativi e la mia paura ricordando frasi famose di politici o burocrati europei nord europei eccetera ma non solo anche alcuni italiani sostanzialmente c'è sempre questa associazione di dire non è giusto che se un paese entra in crisi come era per esempio per la Grecia il rischio contagio è per tutti quindi magari c'è questa discrasia a livello europeo per cui noi abbiamo una unica moneta almeno nell'area euro un unico così idea di Europa una quindi siamo nella stessa barca per certe cose ma poi abbiamo ogni paese il governo eletto da questi cittadini egoisti il governo ipocrita che ovviamente prende i voti in quel paese quindi ovviamente risponde a quegli elettori anche se io mi sembra che almeno in Italia in altri paesi europei no guardano l'interesse nazionale noi abbiamo sempre invece questo sovra così quasi questa divinità europea per cui c'è sempre l'interesse europeo che deve essere sopra quello nazionale altri paesi no abbiamo visto nel caso per esempio i paesi dell'est Europa con il grano ucraino che appena toccato i loro interessi improvvisamente l'hanno messo in bargo sostanzialmente e così su mille altre cose ovviamente ogni paese egoista a modo suo però comunque magari l'idea è di dire abbiamo un debito pubblico che però se entra in crisi in un paese addirittura come potrebbe essere la Grecia rischia di mandare a fondo l'euro e quindi tutti quindi bisogna creare dei meccanismi per cui alla fine il debito pubblico se insostenibile sia pagato dai cittadini di quel paese perché l'avete fatto per dare le pensioni in quel paese assumere i dipendenti pubblici in quel paese poi anche lì tutto ovviamente la semplificazione nella narrazione per cui ecco in Grecia andavano in pensione troppo presto in Italia sono fannulloni in Spagna fanno la siesta quindi sempre un po' tutte queste cose così e quindi c'era questa voglia ma non era possibile perché il debito pubblico era molto intricato per cui un paese se avesse fatto sostanzialmente default comunque anche un haircut cioè avesse detto io non posso ripagare i titoli pubblici interamente ripago il 70% avrebbe creato enormi danni a banche estere a istituzioni estere la stessa banca centrale europea e quindi non era possibile un fallimento però c'è questa situazione di debiti pubblici enorme quindi tante volte viste anche i discorsi appunto propagandistici populisti usando il termine che piace tanto ai giornalisti nostrani comunque diciamo magari ecco del politico del nord Europa oppure del burocrata europeo che l'Europa ogni costo e sopra ogni cosa chiaramente in quel caso l'idea sarebbe invece positivo che appunto magari la parte insostenibile di un debito pubblico possa essere fatta pagare i cittadini di quel paese nel caso della Grecia è successo così non poteva ovviamente il debito pubblico era insostenibile se avesse fatto default saltavano banche estere le euro e quindi non potevano quindi gli altri paesi hanno sostanzialmente la troica dato dei prestiti adesso semplifico insomma questo imponendo a quei governi delle misure lacrime sangue quindi sostanzialmente lo hanno fatto pagare in modo indiretto ai cittadini greci dovendogli prestare i soldi ma ovviamente era possibile con la Grecia cosa succederebbe a un paese come Germania Italia Francia una cosa del genere chi darebbe tutti i soldi per coprire le emissioni diventerebbe problema rischierebbero scoppio dell'inflazione se vengono creati dal nulla se prestano altri paesi rischiano di non averli se invece il debito pubblico questo è una mia timore ma ovviamente chiedo a voi anche un parere perché non lo so però la mia paura è proprio quella che magari se troppa parte del debito pubblico è nelle mani soprattutto dei piccoli risparmiatori di un paese potrebbe esserci la tentazione a quel punto di dire se ci dovessero essere crisi finanziarie non ripaghiamo loro default può avvenire in mille modi non è che dicono non ti ripago ciao può avvenire così possono dire guarda la scadenza te la prorogo di altri dieci anni ti continua a dare gli interessi ma il capitale non te lo restituisco oppure magari dire guarda non ti ridò il capitale ma magari li puoi usare come credito per pagare le tasse in x anni oppure non lo so non ti pago più gli interessi e ti restituisco il capitale tra 5 anni oppure ti restituisco non so ecco solo l'80% se vuoi oppure niente e così via e magari a quel punto l'idea di dire beh è giusto lo Stato si è indebitato troppo per quei cittadini che ecco hanno avuto le pensioni la sanità gratis le strade quindi era per loro è giusto che paghino loro non è giusto che paghino tutti i cittadini dell'area euro stampando euro e facendo inflazione per tutti non è giusto che debbano prestare gli altri paesi non è giusto che noi siamo bravi rispettosi austeri magari voi invece siete spendaccioni e poi alla fine dobbiamo pagare noi per voi che come principio è giusto ovviamente sono semplificazioni banalizzazioni ognuno fa le proprie ovviamente a livello elettorale quindi è un'arma a doppio taglio secondo me ecco magari sì l'esposizione alla speculazione forse è minore ma poi non so quanto perché basta anche poco le grosse banche le grosse istituzioni a volte anche solo diffondendo panico tra i media decidendo magari tagli di rating aumenti di rating o cose così si può alterare molto quindi non è che poi conta secondo me troppo quanto in mano è quel debito mentre se una parte eccessiva dovesse essere nelle mani di tante persone quindi anche senza creare sconquasse al sistema finanziario perché mi spiego se magari una grossa banca se facessero un default su un debito pubblico ma ci falliscono 40 banchi europei di tutti i paesi crea un effetto valanga impossibile da sostenere e quindi non si può fare se invece dicono vabbè ma in fondo ce l'hanno mediamente 30 milioni di italiani ognuno ha una media di 5-6 mila euro di titoli se fanno default non è che cambia la vita queste persone ma magari sono miliardi che a quel punto lo Stato si alleggerisce riparto di investimenti e per un bene superiore eccetera eccetera quindi è un po' banalmente come faccio sempre una metafora un po' cruda ma come se magari uno ha una bomba a mano e sta in mezzo a vari ostaggi a un certo punto è un modo per proteggersi se quello sta da solo con la bomba a mano gli sparano e lo seccano o se si fa saltare salta solo lui quindi per assurdo questa concatenazione tra debiti pubblici tra vari paesi e il rischio reciproco l'effetto contagio potrebbe secondo me proteggere proprio da attacchi speculativi perché magari a quel punto ognuno rischia di avere a perdere attaccare altro invece magari basterebbe per un paese anche solo diffondere il panico magari in modo anche artificiale magari per attaccare un paese rispetto a un altro quindi per interessi anche di grossi istituzioni finanziarie magari colpire un paese e diffondere il panico far crollare i titoli ricordo che qui hanno fatto cadere il governo che poi può piacere o no a me personalmente quel governo non è che piaceva molto però comunque ricordiamo tutti insomma come avvenne in pochi giorni che in un attimo se ne dovette andare l'ex presidente del consiglio arrivò il professor Monti come primo ministro nel giro di giorni ricordo prima che provò Fini se ricorderete a risarcionare Berlusconi lui era riuscito a ritrovare stava con le unghie con i denti attaccato al governo sembrava un governo con non sa quanti voti non ci riuscì Fini con tutto quel nuovo partito non so se ricorderete 2010 quell'epoca lì nel giro di due o tre giorni con lo spread che salì sostanzialmente dette le dimissioni Berlusconi arrivò a Monti e subito partirono tutta una serie di leggi estremamente complicate che o non si sa come hanno fatto a scriverle in pochi giorni oppure forse erano già pronte da tempo e serviva solo uno che le approvasse chissà questo non lo sapremo mai penso però comunque dà l'idea del potere speculativo anche solo sulla paura quindi non so poi se magari è un bene realmente questo è un mio timore nel senso che magari è più facile fare un attacco speculativo tanto rimane anzi nei confini italiani o di un altro paese ovviamente può essere vittima a qualunque paese e è più facile farlo dall'estero se invece il paese poi ha da perdere a sua volta se c'è il panico reciproco magari non lo fanno quindi non so quanto sia una protezione realmente questo però è una mia personale valutazione come dicevo volevo chiudere col caso dei dati di FTX dicevo ecco vari media qui diceva per esempio c'è l'elenco proprio il New York Times il Financial Times Bloomberg e altri avrebbero chiesto appunto alla corte che si occupa del caso di fallimento diciamo sostanzialmente bankruptcy tradotto che non è proprio il fallimento inteso come nel codice italiano ma insomma la liquidazione la gestione straordinaria ecco di FTX appunto di pubblicare tutto l'elenco con i milioni di clienti di FTX per ora la corte aveva tenuto duro ma loro avrebbero in una nuova istanza insistito per avere questo elenco probabilmente per poi vedere se ci sono nomi famosi o pubblicare non si sa bene perché insistono e la corte ecco aveva per ora negato la pubblicazione proprio col rischio di fatto che questi dati molto sensibili possano essere pubblicati esponeva queste persone anche a rischi di finire vittime di frodi eccetera e appunto la diciamo queste società avrebbero invece sostanzialmente insistito per averli motivando dicendo appunto che secondo loro questo rischio sostanzialmente non sussisteva non era poi così concreto e quindi diciamo insistevano per avere questi dati poi vi metto l'articolo in descrizione di Crypto News diciamo fa un interessante approfondimento e questo come dicevo all'inizio del video si ricollega al fatto che poi i nostri dati cioè a noi ci trattano sempre da utenti un po' come potenziali criminali per cui noi dobbiamo dimostrare di non essere criminali in partenza con quella sempre quella sioma fallace secondo me per cui dici se non hai niente da nascondere devi così calarti in mutande far vedere tutto a tutti e il problema tutto a tutti chi? cioè io devo mandare i miei documenti i miei dati riservati personali a chi cioè sia una società ma chi c'è dietro chi è che gestisce quei dati o che garanzia ho che vengono ottenuti in modo sicuro protetto chi è che potrà vedere quei dati se che ne so una società privata o qualcun altro li vuole vedere come vengono protetti come sono sicuro che magari non se li rivende qualcuno li mette su una chiavetta li rivende a degli hacker dei truffatori o magari anche semplicemente a fini pubblicitari in teoria ci sono ovviamente dei contratti ma in un mondo dove ovviamente queste società magari hanno sedi in tanti paesi c'è il cosiddetto meccanismo del dello shopping di giurisdizione diciamo in termini giuridici viene definito così per cui ovviamente a seconda di dove si opera e la sede magari si può mettere una sede in un paese in un altro magari in paesi che hanno le normative un po' più così lente nell'ambito di certe protezioni più a favore magari della società ovviamente non solo in ambito fiscale noi siamo abituati a pensare paradisi fiscali solo nell'ambito dei paghi meno tasse ma ci sono tante giurisdizioni anche in paesi occidentali del primo mondo cosiddetto che in realtà magari garantiscono grossa segretezza su sugli organi societari danno molta flessibilità sui contratti hanno magari meno tutela dei consumatori meno tutela a livello di fallimenti eccetera quindi magari molte società aprono in certe giurisdizioni piuttosto che in altre non solo per la questione fiscale magari a volte hanno anzi delle tasse anche alte ma hanno tutta una serie di altri benefici quindi anche lì non è facile dire firmi il contratto poi chiaramente quando firmate i cosiddetti contratti saranno migliaia di pagine o centinaia o anche decine ma illeggibili quindi poi alla fine quasi nessuno le legge a volte anche in banca andiamo lì a firmi qui non è che uno legge tutto il blocco di fogli quindi dice dovrebbe potrebbe ma comunque così è poi comunque c'è anche da dire che tante società non danno alternative per cui ti dicono o è così oppure rivederci e grazie quindi poi di fatto sei costretto non è che c'è una diciamo così negoziazione ovviamente quindi c'è anche questo aspetto di dare i propri dati e si vede anche come poi dati estremamente riservati poi possono cadere in mano facilmente di non si sa chi e non si sa con quali intenzioni ecco il motivo per cui l'anonimato secondo me è importante strumenti che garantiscono l'anonimato non per fare qualcosa di male anche perché poi casi giudiziari hanno dimostrato che appunto quando effettivamente le forze dell'ordine anche a livello internazionale in coordinamento da paese a paesi hanno sostanzialmente sgominato delle organizzazioni criminali anche che utilizzavano criptovalute che anche per l'acquisto di materiali non so armi sostanze stupefacenti cose così illecite utilizzando criptovalute per quanto magari utilizzavano dei metodi per nasconderne l'origine per così camuffarle per ecco confondere le tracce poi alla fine li trovavano quindi ovviamente le forze dell'ordine come sempre hanno avuto il mezzo ovviamente di indagine per scoprire anche chi magari si vuole scelare dietro l'anonimato quindi non è che questo anonimato serve per violare la legge anche perché io credo che entro certi limiti sia sempre impossibile se uno vuole fare qualcosa di male ma è un anonimato tante volte di tutela dei propri interessi legittimi dei propri diritti della propria tutela personale anche di protezione è come banalmente se facessero una legge per cui dicono è pubblico sapere ogni persona che patrimonio ha e dicono beh ma in fondo che male c'è se hai fatto i tuoi soldi legittimamente perché io non devo sapere ognuno che patrimonio ha magari scopro che il vicino che ha non so la villa e la macchina dichiara solo 5.000 euro l'anno e dichiara un patrimonio di 50.000 euro e io posso segnalarlo oppure immaginate che giustizia ognuno può segnalare l'altro fare la spia e tutti pagano le tasse lo Stato ha i soldi e se ha più soldi viviamo tutti meglio tutte queste favole sostanzialmente ovviamente perché poi in teoria è così in pratica penso purtroppo che più aumenta il gettito fiscale più ovviamente i politici hanno incentivo a spenderlo non per ridurre le tasse che ormai le persone sono abituate a pagare ma magari per o magari sono in certi ambiti ma magari spendere quei soldi in modo che poi generino i voti generino clientele è più facile magari non so che uno rivoti quel partito perché magari gli ha dato un bonus di x euro ma sembrano soldi gratis piuttosto che magari dire riduco l'aliquota non so dal 17 al 15% quindi ecco perché dico secondo me sono favole questa idea ovviamente c'è una questione di giustizia sociale di anche giustamente scaglioni per cui chi più paga cioè chi più guadagna è giusto che in generale chi ha più capacità contributiva contribuisce più alla spesa pubblica però come dicevo sempre come nel caso ecco dei dati bisogna anche vedere dall'altra parte chi obblighi ha la controparte cioè non è solo il cittadino o l'utente che deve dimostrare di essere onesto e deve pagare ma magari lo Stato oppure ecco queste società che i doveri hanno per esempio di tutela della protezione dei dati riservati che vengono dati alle società oppure per lo Stato dei soldi che noi paghiamo di tasse come vengono spesi perché tante volte c'è l'impressione che più ne spendiamo e più sostanzialmente cioè più ne ricevono e più ne spendono ovviamente quindi non sempre bene poi la solita storia che mancano i soldi poi adesso pensiamo al conflitto che c'è quando si tratta di mandare materiali o soldi o quello che sia nel giro di ore trovano quei soldi quindi poi ci sono e non ci sono è molto labile però ecco tornando all'ultima questione appunto quindi c'è questo rischio di questi dati come vengono gestiti ecco perché dicevo l'anonimato è fondamentale e vi avevo anticipato è stato proprio citato il rischio della cosetta truffa che si sta molto diffondendo diciamo della macellazione del maiale in inglese pig butchering che però appunto parte diciamo dell'espressione cinese shazupan spero insomma averla tradotta bene poi vi metto gli articoli in descrizione e una descrizione fatta molto bene è proprio diciamo stata pubblicata dal dal sito della procura distrettuale della California quella centrale che appunto dice è un sistema di truffa molto elaborato in cui sostanzialmente praticamente fanno adesso lo semplifico comunque diciamo i truffatori riescono a recepire innanzitutto dati sulla persona soprattutto si usa criptovalute sanno che ha delle criptovalute sanno che ha dei soldi quindi come dicevo è come se facessero una cosa di trasparenza dicendo è giusto che tutti sappiano il patrimonio degli altri non c'è niente di male ognuno può segnalare l'altro ma qual è il problema dicevo che magari se sappiamo che il nostro vicino di casa magari ha 5 milioni di euro magari un criminale può dire gli rapisco il figlio come succedeva negli anni 70 gli anni di piombo la stagione dei sequestri e magari chiede un riscatto ecco anche il segreto bancario queste cose da dove nascono non c'è niente di male però uno ci può fare del male con quelle informazioni oppure magari uno può mettersi a fare causa a persone ricche a uffa sapendo che hanno i soldi per dire anche solo per dire magari per chiudere la storia mi liquidano quindi la riservatezza anche per esempio sul patrimonio quindi anche sulle criptovalute eccetera nasce per tante volte per tutela personale le criptovalute poi hanno una caratteristica che si lega a questa truffa particolare per cui ovviamente sono a volte accessibili più facilmente direttamente dell'utente magari uno su wallet a milioni di euro che con un click può spostare e questo magari però lo rende vulnerabile a potenzialmente minacce anche fisiche di violenza fisica se uno sa che uno ha quella disponibilità dicendo non so ti rapisco qualcuno oppure rapisco a te ti faccio del male se non mi dai quei soldi un po' più difficile spostare grosse somme di denaro negli anni 70 avete visto anche i film e purtroppo anche la cronaca vera quelle varigette di soldi che magari non devono pagare riscatti queste cose quindi ecco perché dico non è che poi questo è avere ecco anche il rischio di pubblicare le informazioni così e su dicevo questa truffa appunto della macellazione nel maiale appunto i truffatori che cosa farebbero essenzialmente poi lo spiega meglio il sito comunque individuano le proprie vittime su cui hanno già raccolto informazioni se hanno criptovalute tutti i dati che vengono trovati online o comprati le agganciano con dei profili falsi sui social network o addirittura su piattaforme di comunicazione anche whatsapp telegram cose così su siti anche magari di annunci anche amorosi su con messaggi eccetera camuffando l'origine e anche lì può sembrare la battuta diceva vabbè ma è facile ma tanto chi ci casca ma spiegavano che estremamente a parte sono sempre più accurati ma poi c'è anche l'aiuto dell'intelligenza artificiale la creazione anche di siti che sembrano reali e poi alla fine sono con numeri di telefono con persone che rispondono ma se vedete anche dei video fatti con l'intelligenza artificiale magari con per esempio sono anche buffi non so film famosi non so mamma ha perso l'aereo con la faccia di mi sa e stilvestre stallone cose così di un realismo incredibile oppure ci sono proprio anche delle cose fatte bene anche se così a livello scherzoso magari con persone famose noi muoviamo la nostra bocca con la telecamera e il computer mima quello che noi facciamo come se fossimo un personaggio famoso quindi immaginate quello che possono fare anche a livello di scamming cosiddetto per cui creano società magari finte siti finti persone che rispondono al telefono numeri di telefono email persone che sembrano vere anche con videochiamate potenzialmente uno potrebbe fare magari una faccia diversa che si muove e ti risponde ma in realtà dietro c'è un'altra persona e il computer crea quell'immagine finta cioè già in realtà questo non è che bisogna andare sulla fantasia e quindi è sempre più evoluta e appunto anche le autorità di giustizia hanno sempre più difficoltà a trovare come dicevo questo sistema è pericoloso perché diceva che appunto dopo aver guadagnato la fiducia delle vittime a volte anche dopo mesi quindi è una una tecnica molto paziente subjula e pericolosa questa dice i truffatori alla fine propongono l'idea di comprare criptovalute e anche lì c'è una tecnica classica delle truffe per cui ovviamente non è che dicono guarda mandami 100.000 euro e ti ci faccio guadagnare col trading in criptovalute inizia piano piano da siti che sembrano veri società con persone che ti rispondono all'inizio uno è diffidente fa piccoli guadagni dopodiché cioè mette piccole somme fa grossi guadagni quindi è sempre più incentivato a mettere sempre più soldi e a un certo punto però questi siti poi falsi dicevano appunto in realtà cominciano o proprio a prendere i dati sull'utente quindi magari gli rubano anche i soldi o comunque quei soldi che ha messo poi quando li deve ritirare comincia a avere problemi e tante volte dicevano è come una trappola appunto perché magari l'utente deve mettere sempre più soldi per cercare di tirarli fuori per cui inizia quasi questa negoziazione con i truffatori e diceva appunto questo dice quindi anche se la vittima non ha più accesso ai propri conti spesso la truffa non finisce qui diceva i truffatori spesso chiedono ulteriori investimenti magari con la scusa di tasse o commissioni promettendo che questi ultimi pagamenti possono sbloccare i soldi per cui dicono guarda non te li posso ridare perché ci risulta la richiesta di un'autorità fiscale che ci devi pagare queste imposte quindi finché non paghi questo ulteriore 25% non ti possiamo bloccare i soldi in realtà magari l'hanno semplicemente presi quindi uno è costretto a mettere altri più soldi per riprendere quell'altro e quindi dice che spesso è proprio un gioco una tortura un gioco al massacro che appunto finisce soltanto quando appunto dice privano le loro vittime proprio anche dei rimanenti risparmi quello spiega molto bene il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti appunto il Procuratore Stettuale della California spiega bene questo meccanismo e ovviamente poi hanno mille variabili quindi c'è anche il rischio di proprio violenze fisiche persone che vengono prese o comunque ecco il classico metodo per cui uno è diffidente all'inizio e poi dopo se non è esperto cade vittima di queste persone era per dire che è sempre successo anche prima delle criptovalute cito un film come spesso faccio Abbasso la ricchezza che è di dopo guerra forse 45 46 con Anna Magnani Vittorio De Sica appunto di lei che faceva la fruttarola come si diceva cioè si era arricchita in tempo di guerra col mercato nero vendendo la frutta quando c'era il razionamento in tempo di guerra quindi lei era diventata ricchissima compra la villa di questo conte che era De Sica che invece era il proprietario ma poi era finito lui in misera invece ha perso tutti i soldi con l'inflazione di guerra eccetera e quindi lei che era sostanzialmente la tipica borgatara romana immaginate Anna Magnani nei ruoli che interpretava anche se lei ovviamente aveva una enorme cultura però era bravissima in questo ruolo della popolana e vedevi questa che insomma così con la sorella con l'ex cognato così avevano preso questa villa tutta gente arricchita quindi li fregavano in ogni modo compravano i quadri falsi e questo conte prova a dire diceva lei è un poraccio che ne sa lei è definito miseria vive sullo scantinato io guardi come sto e vuole insegnare invece lei era brava con la frutta con queste cose ma con tutte queste cose quindi su investimenti fanno fare una società recuperi sottomarini di tesori e perdono tutto comprano i quadri erano tutti falsi e a un certo punto lei viene invitata da dei conti quindi lei che era una popolana si sentiva onorata di questo e questo conte insomma che appunto ha interpretato da De Siga che dice guardi lasci perdi io questi non l'ho mai sentiti questi cosetti nobili tu eras nobile non l'ho mai sentiti ma lei che ne sa è un poraccio qua di là tutta gente squisita l'avevano invitata a giocare a soldi lei torna tutta contenta dice vede dice ha perso tutto dice no vede io ho guadagnato vede che non capisce niente lui dice beh vabbè allora non ci vada più tenga i soldi ma lei che ci capisce la volta dopo lei ci torna e la spendano nel senso che ovviamente l'avevano fatta vincere una volta per farle prendere gusto farle credere e così a quel punto lei giocava proprio i soldi veramente e gli l'avevano spennata insomma questi che erano di bari dei truffatori quindi per dire insomma ecco sono sempre esistite queste tecniche evolvono i mezzi ma insomma le modalità di questa gentaglia sono purtroppo sempre le stesse quindi ecco perché anche i nostri dati l'importanza dell'anonimato sono cruciali anche perché poi magari dopo mesi dopo anni con i nostri dati che avevamo dato così con leggerezza rischiamo poi che ci sono fatali c'è chi appunto fa dei veri e propri profili delle persone ci studia ci impara a trovare e comincia magari ripeto durano mesi se non anni a volte queste truffe prima di prendere la fiducia una volta che lo fanno rischiamo di portare via quasi tutti i soldi c'erano anche testimonianze anche in vari scandali anche di fallimenti di piattaforme di criptovalute eccetera ne avevamo parlato quindi insomma è molto importante fatemi sapere cosa ne pensate come sempre vi saluto e vi ringrazio ciao a tutti ciao a tutti